Una piantagione di marijuana è stata scoperta dai carabinieri a Margherita di Savoia in località cannafesca. I militari nel corso dei servizi di monitoraggio delle aree rurali hanno rinvenuto 77 piante di canna bisnana di altezza variabile tra gli 8 e 59 centimetri che erano in fase di coltivazione all'interno di vasi sistemati in più file su un terreno incolto. Inoltre vicino alle piante era stato allestito un rudimentale impianto di essicazione. Nascoste tra le sterpaglie sono state scoperte anche 7 buste in cellophane contenenti solo infiorescenze di marijuana per un peso complessivo di circa 7,5 kg. Le piante del peso totale di 80 kg circa sono state estirpate e sottoposte a sequestro così come il resto della sostanza stupefacente rinvenuta ed il materiale usato per la coltivazione illecita. Gli accertamenti svolti nei laboratori del comando provinciale di Foggia hanno permesso di stabilire che dalle piante e dalle infiorescenze sequestrate si sarebbero potute ricavare oltre 43.000 dossi di marijuana.